La situazione a Vecopisano sta riprendendo, cominciamo a rivedere turisti, visitatori. Questo è un altro importante progetto, importantissimo anche come visione, che noi vogliamo appoggiare, che stiamo appoggiando e che spero che anche la regione continui a appoggiare con questa forza per ottenere risultati importanti per la nostra comunità. Così il sindaco di Vecopisano mattò Ferrucci alla presentazione in regione toscana del cortometraggio Sulle ali della Vespa, realizzato con gli studenti e attori dell'Epsia di Pontedere, diretto dall'attore e regista pisano Renato Raimo e dedicato all'ingegnere della piaggio Corradino Dascanio, che inventò lo scooter più famoso al mondo. Sulle ali della Vespa, girato proprio durante il Covid, porta in sé una magia particolare. Vuoi perché racconta un mito, quello della Vespa, che tutti conosciamo e che le generazioni a cui si rivolge, appunto i sedicenni, hanno recepito in maniera oltre l'aspettativa. Il protagonista gira con l'iPhone in tasca ma arriva a scuola col caino. E non stride tutto questo, anzi sembra perfettamente collocato in un racconto dove chiaramente la magia del racconto porta un nonno che ha lavorato alla piaggio a trasmettere questa passione, che poi forse è la mia di regista e che ho inconsciamente incastonato nel racconto. E quindi è venuto fuori la freschezza, la gioia di raccontare un percorso adolescenziale. Tutto rimane perfettamente nella vita di oggi, non è retorica, non è stata stravolta la vita dei ragazzi. Anzi, io ho chiesto proprio a loro questo. Come vivreste oggi voi questo mito, questo modello, questa grande avventura che si chiama Vespa? Volevamo proprio esprimere questo, l'essere ancorati al territorio ma con un volo, una proiezione verso il futuro attraverso le competenze che la scuola insegna ai giovani. E tra queste anche il linguaggio cinematografico. In questo video, che io ho avuto la fortuna già di vedere, c'è la nostra idea di Toscana. Il racconto attraverso gli occhi del nonno, ex operaio della piaggio, del mito della Vespa a un nipote sedicenne, la voglia di ripartenza. L'idea di un'Italia che ce la può fare, di un'Italia che scommette sul futuro. La Vespa è un mito, un mito per tante italiane e tanti italiani, è un simbolo di toscanità nel mondo. La Vespa è saper tenere insieme tradizione e innovazione. La tradizione legata alla vita che tanti di voi, tanti di noi hanno avuto sulla Vespa. I primi amori, le prime conoscenze, la voglia di guardare al futuro con speranza. E dall'altro l'innovazione, l'innovazione legata a nuove tipologie di mobilità, penso alla mobilità elettrica. E poi quel titolo, sulle ali della Vespa. Il nostro simbolo, il simbolo della regione è il Pegaso alato, con le sue zampe nella storia, esattamente come la Vespa, ma con le ali che guardano al futuro. Allora, quale miglior momento, quello lunedì, di poter raccontare questa idea di futuro? E quale miglior momento, quello di poter raccontare un percorso importante, fatto di formazione delle ragazze e dei ragazzi? Lo vedrete, ci sono tante ragazze e tanti ragazzi giovani che Renato ha aiutato, ha aiutato a crescere, a portare fuori i propri talenti, a portare fuori la voglia di vivere. Con l'unanimità dell'Aula si approva la proposta di legge che rafforza i compiti dell'Osservatorio regionale della legalità. Osservatorio che nasce con lo scopo di raccogliere informazioni sul progredire dell'eventuale presenza anche sotto forma di infiltrazioni delle organizzazioni malavitose sul territorio toscano e avanzare proposte per contrastare ogni forma di criminalità organizzata. La proposta presentata dal PD accoglie anche alcuni emendamenti dell'opposizione. Il Consiglio regionale ha all'unanimità approvato le modifiche alla legge istitutiva dell'Osservatorio regionale e della legalità. Una misura importantissima che vuole rendere operativo un organo, l'Osservatorio, che ha la funzione di raccogliere informazioni circa tutte le forme di criminalità organizzata, di stampo mafioso che possano eventualmente penetrare nel territorio toscano, ma un Osservatorio anche che ha come obiettivo quello della diffusione della cultura della legalità. Con la nuova legge si sono andate a puntualizzare le funzioni dell'Osservatorio, si sono andati a indicare più compiutamente coloro che devono entrare a far parte di questo Osservatorio, garantendo che l'Osservatorio possa essere operativo anche con la sola presenza dei soggetti individuati dagli enti pubblici. E soprattutto si è resa operativa e visibile l'azione dell'Osservatorio attraverso l'indizione di una conferenza annuale organizzata con il Consiglio regionale per discutere dell'attività svolta dall'Osservatorio. Un momento di confronto e di dibattito aperto al pubblico, che ha come scopo principale promuovere la cultura del rispetto delle istituzioni e della lotta alla criminalità organizzata. Uno strumento importante a servizio della Toscana che integra le funzioni istituzionali con quelle delle amministrazioni comunali, con quelle delle forze dell'ordine, al quale abbiamo chiesto di fare parte di questo organismo, oltre che le associazioni che lottano nel territorio contro le mafie. Quindi è un luogo comune di lavoro dove si condivideranno politiche, dove si faranno azioni congiunte e credo che sia un baluardo importante delle istituzioni al cospetto della criminalità organizzata e delle mafie. Ci fa piacere che dopo due mesi circa, da quando il Partito Democratico bocciò la proposta di Fratelli d'Italia di istituire una commissione permanente antimafia, si sia rimesso mano alla legge che regolamenta l'Osservatorio per la Legalità. Due mesi e mezzo fa ci sentimmo dire in aula che non dovevamo toccare niente, perché la maniera in cui la Regione Toscana affrontava il tema della legalità era perfetto. Salvo 24 ore dopo assistere all'inizio dell'indagine della Direzione Distrittuale Antimafia di Firenze, l'arresto di 23 persone, il sequestro di 22 mila euro di capitali legati all'Andrangheta, allora forse evidentemente si sono accorti che non stavano facendo tutto e ben venga questa revisione dell'Osservatorio. Adesso però che venga fatto funzionare e che venga reso attivo nel più breve tempo possibile. Non possiamo che essere a favore di tutte le proposte che vanno a migliorare la lotta contro la criminalità organizzata. In questo senso occorre interpretare questa proposta di legge sull'Osservatorio della Legalità che va a migliorare le funzioni, a incrementare le funzioni e anche a dare una nuova composizione. E al tempo stesso attiva la Commissione sulla lotta contro le infiltrazioni di criminalità organizzata, preseduta dalla mia collega Elena Meini. Sono certo che più strumenti abbiamo, più possiamo fare bene. C'è molto lavoro da fare come purtroppo certe inchieste dimostrano in modo inequivocabile e quindi cerchiamo di dare ciascuno di noi il nostro contributo. Ci sarebbe piaciuto essere più coinvolti nel miglioramento della normativa sull'Osservatorio della Legalità. Purtroppo a volte la maggioranza procede di fretta perché si rende conto che ci sono evidenti problemi anche in Toscana. Questo bando prevede la possibilità di offrire ai filmmaker che vorranno partecipare la possibilità di vedere la Toscana nel 2050, quindi di dare massimo sfogo alla creatività, alla fantasia e all'immaginazione che è poi libertà. E' Toscana in spot 2021, ritorna al futuro il titolo del nuovo bando per brevi filmati audiovisivi che esprimano la visione dello sviluppo della nostra regione dal punto di vista sociale, culturale, economico e ambientale. Un'iniziativa questa presentata a Palazzo del Pegaso dove si chiarisce che questo bando è rivolto soprattutto alle nuove generazioni per esprimere la propria visione dello sviluppo della Toscana 2050. E allora pensare a come noi viaggeremo, a come noi costruiremo le nostre città, a come noi lavoreremo. Molte cose con la pandemia hanno modificato il nostro sistema di mobilità, di cultura, di comunicazione. Ecco, probabilmente quando costruiranno lo spot della Toscana nel 2050 queste cose faranno ricchezza del progetto della Toscana. Poi vorremmo anche, però, e ci auguriamo, che la costruzione di questi messaggi della Toscana nel 2050 siano di giovani che guardano in positivo alla Toscana, quindi alla Toscana di diritti, alla Toscana che amiamo, ma sicuramente una Toscana più contemporanea e che quindi abbia la creatività e la positività come temi principali. Non saremo però in un film di fantascienza, noi vorremmo che non si vedesse, l'abbiamo chiamato Ritorno al Futuro questo spot, pensando a un film che era di fantascienza ma che non era poi del tutto di fantascienza. Ed è questo che noi chiederemo, di raccontarci una Toscana vera, concreta, anche se è una Toscana che oggi è molto lontana da quella che viviamo. Il concorso, come negli anni scorsi, ricordo, noi l'abbiamo fatto sul gioco d'azzardo, sulla violenza sulle donne, sulla ripartenza. Abbiamo un tempo che è fino a settembre, affinché i coloro che vogliono partecipare e presentino uno spot, uno spot di un minuto, come sono gli spot promozionali, di progresso, di comunicazione. Ci sarà una giuria ogni anno diversa, ma di persone competenti sui temi della comunicazione e i tre migliori giudicati dalla giuria, i migliori spot, riceveranno un premio in danaro e la possibilità, ringraziandovi voi, la possibilità anche di promozione nelle televisioni della nostra regione. È un'idea che ho lanciato all'inizio di questa legislatura, quella di rappresentare con gli occhi delle ragazze e dei ragazzi più giovani quella che sarà la Toscana dei miei figli, la Toscana delle nuove generazioni. Ringrazio Enzo Broggi che subito ha colto questa sfida e ha deciso come Corecom di lanciare l'idea di premiare i migliori filmati che possano rappresentare quella che sarà la Toscana del 2050. Io mando un appello a tutte le ragazze e ragazzi toscani, partecipate, date il vostro contributo, provate a raccontare con le vostre lenti quella che sarà la Toscana di domani, come sarà il turismo nel 2050, come sarà l'agricoltura nel nostro territorio, tra città d'arti e piccoli borghi, come riusciremo a farli crescere insieme e le tecnologie come impatteranno sulla vita dei cittadini che cambieranno in maniera notevole. Ecco, attraverso gli occhi e le lenti dei ragazzi e delle ragazze più giovani vorrei che venisse fuori davvero l'idea della Toscana del futuro. Io in queste settimane ho deciso di andare spesso nelle scuole e lo farò per tutta la legislatura. Devo dire che è stata l'esperienza più bella che ho vissuto in questi mesi, grande contaminazione, grande capacità di leggere il presente e il futuro, grande voglia di partecipare nella vita pubblica. Come ho detto ai ragazzi, non siate mai indifferenti, non giratevi mai dall'altra parte, abbiate il coraggio di porci i temi di frontiera, quelli più difficili da trattare, il rapporto tra l'uomo e la macchina, la necessità di ripensare i temi dei diritti in maniera più sensibile. E questa è la sfida che noi abbiamo avanti, è un'assemblea legislativa non può che porsi a discutere di questo. Per il governo dell'oggi c'è la Giunta che lo sta già facendo molto bene. Il Consiglio regionale della Toscana dice sì unanimemente alla risoluzione che chiede di intercettare ogni possibile offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Recovery Plan è un'opportunità storica per il nostro paese, ma è un'opportunità storica anche per affrontare il tema della diseguaglianza tra i territori, tra i centri urbani e le aree più periferiche. Da questo punto di vista il Recovery e l'esame che abbiamo fatto in commissione presenta molte opportunità. Il Piano Nazionale dei Borghi, la questione della connettività, il rilancio dell'attività turistica, un nuovo modello di sanità territoriale. Noi per raggiungere questi obiettivi e per intercettare queste risorse abbiamo innanzitutto delineato per la Giunta regionale un obiettivo. Se in Toscana, nelle aree interne, è concentrata un terzo della popolazione regionale, l'obiettivo che ci dobbiamo porre è che un terzo delle risorse che arriveranno in Toscana dal Recovery Plan siano destinate alle aree interne. È un obiettivo ambizioso, ma è un obiettivo necessario. E per raggiungerlo abbiamo delineato due obiettivi di medio termine. Il primo, la Regione si deve strutturare per dare una mano ai comuni, perché senza progetti non si intercettano i finanziamenti. L'altro, se i comuni e soprattutto i più piccoli ci dicono abbiamo difficoltà di bilancio nel finanziare l'attività di progettazione, questi comuni rischiano di essere tagliati fuori da questa opportunità. E quindi occorre, come Regione, mettere in campo un fondo per sostenere l'attività di progettazione. Quindi noi dobbiamo mettere in condizione la Regione e gli enti locali di avere progetti chiari, definiti e avanzati per poter intercettare questa opportunità che veramente è di portata storica per il nostro Paese. Grazie a tutti!